Musica Un cordiale saluto, buongiorno, ben ritrovati a tutti, questa è la rassegna stampa di FanoTV di oggi, oggi è martedì 21, 21 luglio 2015, ben ritrovati carissimi. Allora subito il salto del giorno, vediamo lo San Lorenzo da Brindisi, il sole è sorto alle 5.44 e tramonterà alle 20.44, il tempo è buono anche oggi con cielo sereno su tutta la costa, questa è la fotografia della nostra webcam e la temperatura, le temperature oggi saranno ancora decisamente alte, si comincia con 24 gradi e 6 al mattino presto per arrivare poi a 35 gradi nel corso della giornata, Infatti oggi la protezione civile delle marche prevede temperature stazionari o in lieve aumento nei valori massimi, il mare sarà quasi calmo mentre per domani stessa cosa, tranne temporali sui rilievi del centro sud, siamo sui monti Sibillini, anche domani avremo temperatura in lieve aumento nei valori massimi mentre in diminuzione le minime della notte. Per giovedì un cielo perturbato sui crinali dell'Appennino, nel pomeriggio avremo rovescio temporale sparsi lungo tutta la fascia montana del centro Italia, la fascia collinare localmente trascinati verso la costa da flussi in quota, quindi giovedì bisognerà probabilmente sperare che qualcosa scivoli anche verso il litorale in termini ovviamente di pioggia. Ma avremo comunque tempo stabile per tutta la settimana, forse il fine settimana qualche perturbazione con diminuzione delle temperature. Allora, questa mattina la rassegna stampa in particolare si occuperà di quel terribile fatto di cronaca di cui vi abbiamo parlato già nel corso del telegiornale di ieri sera, vale a dire di quell'omicidio, l'omicidio di un giovane di 17 anni trovato con la gola tagliata in un dirupo a Sant'Angelo in vado. Ampio spazio a questa notizia viene dato naturalmente su tutti e tre i quotidiani. Cominciamo allora dal resto del Carlino, che titola così, trovato morto nel dirupo, aveva la gola tagliata. Si tratta di Ismaele Lulli di 17 anni, lo vedete in questa immagine, sta foto grande, abitava a Sant'Angelo in vado, mentre qui sotto il momento in cui il carro funebre ieri ha portato via il corpo, il cadavere del giovane dopo che è stato trovato da un uomo, un uomo del posto, di professione fa il macellaio, che adesso si trova sotto shock. L'ultimo sms di Ismaele, vado via, non cercatemi, ritrovato da un macellaio che passeggiava nella zona. Lo hanno trovato in fondo ad un dirupo a 50 metri dalla chiesa di San Martino in Selva Nera, a Sant'Angelo in vado. Ismaele Lulli, 17 anni, ha una profonda ferita di taglio alla gola, la maglietta che indossava è inzuppata del sangue derivante da quella emorragia. Il corpo è già annerito e gonfio dopo ore di esposizione a temperature tropicali. Ismaele mancava da casa da domenica mattina, la madre nel pomeriggio, non vedendolo rientrare, è andata dai carabinieri a fare denuncia di scomparsa. Il corpo lo ha visto ieri mattina intorno alle 10.30, un macellaio della zona che andava a verificare lo stato dei lavori di una casa in ristrutturazione. Dicevamo che dal cellulare di questo ragazzo scrive il giornale alle 15.30 un sms diretto alla fidanzata e alla madre, dice Non mi cercate, voglio cambiare vita, vado verso Milano. L'appello su Facebook dopo la scomparsa, la denuncia domenica pomeriggio ma forse era già morto. La denuncia infatti risale a domenica pomeriggio e tra la sera e la mattina di lunedì è stato lanciato questo appello che il giornale riporta. Tre pagine dedicate a questo orribile delitto, tre pagine sul Carlino di Pesaro, Sant'Angelo invado adesso si scopre non più Isola Felice, il sindaco Luzzi vorrei che ci fosse il silenzio adatto a far lavorare al meglio i carabinieri e la procura. A titolo su due pagine Ismaele, ragazzo riservato, una famiglia benvoluta, la vittima frequentava l'istituto alberghiero a Piobico. In questa immagine lo vedete sorridente su una fotografia che come tutti i suoi coetanei ha pubblicato su Facebook. E poi ancora dagli altri quotidiani la pagina delle Marche del Corriere Adriatico. Coltellata la gola, giustiziato a 17 anni, sciocca Sant'Angelo invado, il corpo di Ismaele Luglia è stato trovato in un dirupo da un agricoltore. E' chiaro che pur essendoci stato del tempo per i colleghi dei quotidiani, soprattutto quelli che risiedono sul posto di avere informazioni, poi tra l'altro il Corriere ha delle fotografie, se vogliamo, non so se sono aggiornate, qui ci sono delle ricerche dei carabinieri, non so se si riferiscono al luogo, oppure sono di repertorio, la chiesetta, dicevamo, probabilmente sotto qui la scuola, no, sotto l'obitorio di Torrette. Insomma, sul lavoro che svolge chi l'ha trovato dice poco, però ecco, uno macellaio, uno agricoltore, adesso questi sono tutti i dettagli, anche perché c'è veramente, si è alzato, come è giusto che sia, anche una barriera, un muro. Gli investigatori non hanno detto nulla o cercato di far trappelare nulla, proprio perché a questo punto c'è un assassino in giro per il paese, o chissà adesso dove sarà andato, però di fatto c'è una persona che deve essere catturata, deve essere presa. Quindi, come è giusto che sia, gli investigatori cercano il più possibile di interlinare le informazioni, le risposte alle tante domande che i giornalisti ieri hanno fatto. Quindi è facile che in questo primo momento ci siano anche delle discordanze tra un giornale e l'altro, e quindi questo è normale. Tra l'altro, andiamo a leggere ancora gli altri dettagli su questo argomento, l'angoscia dell'uomo che lo ha avvistato. Mio padre non vuole parlare, è sotto shock da quando ha ritrovato il corpo del povero ragazzo, non riesce nemmeno a chiudere occhio, non si dà pace, poche parole al telefono, poi la comunicazione si chiude. La famiglia di questo signore, che si chiama Luciano, ha eretto un cordone di protezione attorno all'agricoltore, che ieri ha ritrovato il cadavere di Ismaele. L'uomo è stato ascoltato dai carabinieri, al quale ha raccontato come ha notato nel dirupo il corpo senza vita dello studente. Attimi che ovviamente ricorderà per tutta la vita. Questa mattina a Torrette di Ancona verrà effettuata l'autopsia. Sono già arrivati ieri sera, in realtà, gli esperti del RIS di Roma, e mentre vi stiamo parlando, anche in diretta, le sette e mezzo saranno già lì sul posto, per cercare di trovare ogni minimo dettaglio. Quindi staranno setacciando centimetro per centimetro tutta l'area attorno a quella chiesetta. Chiesetta, ieri ho parlato con il parroco di Sant'Angelo Invado, chiesetta che viene aperta soltanto qualche volta all'anno, tre volte all'anno, per quelle cerimonie che si svolgono, ecco, così, devozionali, ogni tanto, ecco, ma non ci sono messe tutte le domeniche. Quindi un luogo quasi sconosciuto. Domenica, da domenica i familiari non avevano più sue notizie, giallo su questo sms, vado a Milano e cambio vita. Ora bisognerà capire se questo sms lo ha scritto lui o se questo sms l'ha scritto per lui qualcun altro, per evitare che poi lo cercassero e quindi avere più tempo evidentemente per fuggire, per scappare, per darsi alla fuga. Insomma, adesso sono tante le... bisogna capire se il telefonino è lì, se gli investigatori l'hanno trovato, se non l'hanno trovato. Le domande sono tantissime. Come è arrivato in quel posto, se c'è arrivato da solo, se aveva un mezzo proprio, inteso come una bicicletta o un motorino, avendo 17 anni, oppure c'è arrivato in altro modo, c'è arrivato con il suo assassino. Sono tutte cose che bisognerà valutare, comprese ovviamente ormai le famose celle telefoniche che in qualche modo aiutano molto gli investigatori, in questo caso, anche a tracciare una sorta di percorso fino al momento in cui non è stato spento, perché poi pare che dopo aver mandato questo sms il telefonino sia rimasto muto, perché immaginate voi la mamma o la fidanzata che riceve un messaggio del genere, la prima cosa che fa, chiama immediatamente per capire che significa. In realtà dopo quell'sms il telefono di Ismaele è rimasto spento. Ecco perché bisogna capire se questo sms l'ha scritto lui oppure lo ha scritto il suo assassino per prendere tempo. Andiamo sul messaggero, poi chiudiamo questa pagina. La pagina di Peso Urbino, ucciso a 17 anni e gettato nel dirupo, ora Sant'Angelo invado, la vittima è Ismaele Lulli, lo studente sarebbe stato sgozzato e poi spinto nella scarpata. Il ragazzo era uscito da casa domenica pomeriggio, ricerche per tutta la notte, ieri mattina poi l'ha scoperta. Il corpo... Ecco, questo è un dettaglio che in effetti c'è soltanto, almeno da una prima lettura veloce, di tutti e tre i quotidiani, soltanto sul messaggero. Il corpo, secondo il quotidiano romano, è stato ritrovato con mani e piedi legati nella zona boschiva di San Martino in Selvanera. Quindi questo è un dettaglio in più che i colleghi del messaggero hanno messo in evidenza che invece non risulta nelle relazioni, nei servizi, nei pezzi che hanno scritto gli altri colleghi. Però, ripeto, poi bisogna entrare a leggere riga per riga, anche perché, insomma, questo giustamente ha bisogno di un richiamo importante, così come ha fatto il messaggero. Però è un dettaglio importante, mani e piedi legati nella zona, cioè il corpo con mani e piedi legati. Questo è il messaggero. Adesso, per chiudere, velocemente andiamo a leggere le altre notizie. Torniamo allora sul resto del Carlino, che mi diamo naturalmente argomento. Chiara e il voto, il 100 alla maturità. Una tipa davvero speciale. Ora voglio girare il mondo, dice questa ragazza, che ha la sindrome di Down ed ha una grandissima tenacia. Guardate che bella è questa ragazza. Chiara Montanare, 21 anni, con la mamma Adele, nel ristorante di famiglia. La ragazza vive a Mondavio, si è diplomata alla scuola alberghiera Panzini di Senigallia, in sala e sala bar. Poi c'è la polentara, la polentara di San Costanzo, la 202esima edizione, in programma questo fine settimana, sabato e domenica, conto alla rovescia. Per questo appuntamento, credo che sia la sagra più longeva della Regione Marche, quindi è un record già di per sé, questa iniziativa. Mentre pochi eventi a Fano, pochi eventi, gli esercenti in rivolta, lunedì manifestazione di protesta, un volantino contro la giunta di Massimo Seri. Dimettetevi, è ora di dire basta. Dopo gli albergatori, sono gli operatori commerciali a dire la loro sul tema della carenza di eventi in questa stagione estiva. I commercianti infatti hanno unito le forze e dopo il grido di allarme lanciato da alberghi consorziati, hanno fatto sentire la loro voce e lo faranno ancora con una manifestazione di protesta che di per sé è un altro fatto clamoroso, questo, lunedì prossimo alle 15, lungo corso Matteotti. E il sindaco invece convoca un incontro con i rappresentanti dei commercianti per giovedì alle 15 e potrebbe, si spera che possano, che si possa placare gli animi, il malcontento appunto degli operatori. Due baristi aggrediti da un giovane e lo zio, violenza al Lido di Fano l'altra notte per il rifiuto di servire ancora alcol, sedano la tensione i militari di strade sicure. Poi ancora, sempre sui quotidiani le pagine di Fano e in questo caso Vale del Cesano, ansia per quattro sequestrati, vittime tecnici della Bonatti, a Fano c'è l'ufficio ingegneria della ditta. Stiamo parlando, non ci sono fanesi tra i quattro italiani rapiti in Libia, dipendenti dalla società di costruzione di Bonatti, la cui casa madre è a Parma, ma a Fano ha dislocato l'ufficio di ingegneria dove si fanno i progetti per la realizzazione dei grandi impianti per l'estrazione del gas e del petrolio. Poi, sempre dal giornale delle Marche, poco pubblico alla Fano dei Cesarini, vince la famiglia Marco Savelli, gli organizzatori però giudicano la serata molto divertente. Poi, Brodetto, Miglior Vino, il Bianchello della Cantina Morelli, è stato proclamato da parte della confraternita del Brodetto, dalla pagina di Senigallia velocemente, chiede, questa è una notizia che fa venire insomma, un po' la pelle d'oca, chiede gli spiccioli, poi ipnotizza i bagnanti e si fa consegnare i soldi. Siamo messi bene, adesso ci sono pure gli ipnotizzatori, quindi siamo praticamente a diverse denunce e lo stesso identikit dell'impostore è un ragazzo di colore di alta statura, quindi un ragazzo di colore di alta statura che se vi ipnotizza attenzione perché vi porta via tutto ciò che avete addosso, mi ha guardato fisso negli occhi e io ho ceduto, questo è il racconto, mi ha fatto vedere la foto di una bambina sul cellulare dicendomi che aveva bisogno di denaro, poi l'ha guardata negli occhi e lo ha ipnotizzato. Ancora dal quotidiano di Biancona anche l'ospedale fa i conti con l'AFA siamo a Senigaglia guasto all'area condizionata dell'UTIC locali non climatizzati al pronto soccorso. Poi la pagina di Pesaro invece del Corriere il presidente della Camera di Commercio Alberto Drudi forza l'embargo patto con i russi le sanzioni europee hanno causato un calo dell'export marchigiano per 200 milioni una missione prevista in autunno in spiaggia via libera a Chiosco e Ristorantino la previsione del nuovo piano per Baia Flaminia nell'arenile libero verranno implementati i servizi di vigilanza docce e pista pedonale poi navigazione sotto costa 16 diportisti sono stati multati dalla Guardia Costiera che ha effettuato controlli ai piedi del San Bartolo ci sono rischi per la balneazione quindi è stato sanzionato anche un acquascooter poi sempre dal giornale torniamo sul messaggero per le altre notizie il sindaco di Pesaro Ricci in piazza mercatini vergognosi il sindaco ha affrontato le criticità del centro storico in un confronto pubblico nell'ultima sera della festa dell'unità a disposizione un milione e mezzo di euro numerosi progetti che coinvolgono i contenitori vuoti tra cui il San Benedetto poi dalla pagina di Fano invece per chiudere furti e vandali a Lido pensano ai vigilantes vigili gli abitanti concordano con una linea ferma multe sì o multe no con albergatori e associazioni di categoria prosegue il dibattito alcuni residenti lanciano l'ipotesi di una colletta per pagarsi il passaggio di guardie giurate durante le ore notturne poi le altre notizie in breve gioca all'otto e con due euro ne vince quasi 80.000 insomma beato lui e sotto ancora Odissea al pronto soccorso aspettando l'ambulanza una pensionata di 90 anni costretta ad aspettare quasi sei ore un mezzo che la riportasse a casa ed è tutto grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa noi ci ritroveremo domani mattina come sempre puntuali qui alle 7.30 questa sera invece c'è Occhio alla Notizia il TG alle 20.30 e poi come sempre vi ricordo che abbiamo il nostro sito internet occhiolanotizia.it che come sempre è molto aggiornato in tempo in tempo reale e quindi potete potete cliccare occhiolanotizia.it oppure scaricare ecco la pagina aggiornata con il nostro touchscreen vedete in primo piano anche noi abbiamo messo ovviamente la notizia drammatica che arriva da Sant'Angelo in vado dicevo c'è anche l'applicazione che con Google Play vi consente di essere sempre aggiornati con il vostro tablet è tutto buona giornata arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.